Una gaiarda cessistica ischia ottiene la seconda affermazione in campionato. I gialloblè sabato si sono imposti per 60 a 45 sul Mugnano Basket. La vittoria era un po' nell'aria, considerato che nelle ultime settimane i ragazzi del coach Antonio Ruggero hanno sciorinato un buon gioco e con prestazioni positive hanno messo in sera difficoltà ogni avversario incontrato, capolista Angri compresa. Partono subito molto forti gli isolani che conquistano un vantaggio di 6 punti. All'intervallo lungo si arriva con la cessistica in vantaggio per 33 a 28. Nel terzo quarto però qualche errore dei padroni di casa accompagnato alla paura di perdere permette al Mugnano di recuperare. Il finale di gara è tutto gialloblè, con gli isolani che si riportano in vantaggio ed allungano fino a chiudere su quello che sarà il risultato definitivo, ovvero 60 a 45. Arriva una vittoria molto importante con la cessistica ischia che vede così gratificati gli sforzi compiuti nel passato più recente. E con un po' di morale e un po' di convinzione in più, anche credere alla salvezza non è più mera utopia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.